Grazie a tutti. Tre entrate qui. Ci sono tre entrate, entrono dove vogliono e mandano la gente fuori, in modo di lasciare qui tutto lì va. Mio figlio ha litigato con i suoi amici perché lui non è vaccinato. E qua, questo è per il futuro per i giovani e i giovani non ci sono. Non ci protegge, non ci protegge perché ci prendono un microfono. Certo, quello è più sentissimo. Vabbè io. Icaro. No, no, no. Che cosa stai vedendo? Cosa sta succedendo? Questa manifestazione è pacifica. Ho visto molte forze dell'ordine in borghese a iniziare zizzanie davanti, sono in prima linea. Non è giusto questo. Noi siamo in pace. Non c'è nessuno che vuole fare male a nessuno. Anzi, siamo tutti qua per la stessa causa. Basta comunque. Come ti chiami? Tiziano. Grazie Tiziano. Salve, sono Pietro. Che cosa è successo? Cosa mi vuole dire di così oggetto? Allora, io sono un lavoratore, parlerò in italiano, in inglese, così spero che questo messaggio vada in giro per il mondo, veramente. Io sono qui in Trieste, io sono un lavoratore, sono un padre di tre, ho avuto tre piccole ragazze. Ho avuto tre piccole ragazze, ho avuto il 15 ottobre, non ho avuto un salario, la stessa per la mia figlia, perché non seguiamo la politica di drugge. La democrazia è una politica, è una politica, questo è una politica, siamo contro la politica, voglio essere liberi, gli italiani vogliono essere liberi. E io sono qui oggi per chiedere il governo di tornare alla democrazia, di seguire il nostro, quello che vivevamo prima, in un modo che vivevamo prima, prima di questo succedere. E' tutto, vogliamo essere liberi. La democrazia la sente in pericolo? Yeah, I'm very worried about democracy, I'm afraid this is the end of democracy for Italy, and that is a horrible feeling. I do not know whether I could still live in Italy if things go on like that. When everything started in 2020, when it was a sanitary emergency, I was at home too, we accepted everything, all the restrictions, all the conditions, it said, it is something we have to do together. But no, what kind of sanitary emergency we are talking about? There is no sanitary emergency anymore. The data in Italy are very good, one of the best in Europe. So what kind of sanitary emergency we are talking about? This is just something that the government wants to impose on people, the green past. Davanti, adesso ci sono 20 blindati, ci sono due camion de l'idranti, molto probabilmente utilizzeranno l'acqua orticante. Cosa la spingi a stare qua? I came today here, and I've been here all these days, because of the Italian constitution, which I read and I believe into. And it said, Italy is a democratic republic based on job, on work. And this has vanished over the night. I love the Italian constitution, but apparently it has gone I don't know where with Mr. Draghi. No green past, no green past. BASTERDI! Hanno iniziato, hanno iniziato con i migranti. Bravo! Bravo! Stanno andando con i migranti. Si stanno bagnando tutti, maledetti! Maledetti! Stanno usando la forza! Stanno usando la forza, maledetti! Maledetti! Stanno usando la forza, maledetti! Siamo coberti! Stanno usando la forza! Tanto non ce ne andiamo! Grazie a tutti. Servi dei servi! Servi dei servi! Siete dei servi! Schiavi, schiavi! Siete dei servi! Guarda! Guarda! Hanno lanciato anche dei lacrimogini, si vede del fumo, quindi è chiaro che vogliono cercare lo scontro, ma speriamo che si rimanga in... Ecco, ecco, guarda qua! Questo è quello che stanno lanciando, stanno lanciando sulla folla queste cose... Non passi mai! Non passi mai! Fian, fian! Aiuto, aiuto. Eh, sta facendo! Siamo ai livelli di Genova Di Genova 2001, ma nessuno ha alzato un dito C'è una scuola lì, c'è una scuola Me lo dica, me lo dica C'è una scuola di bambini là Si devono vergognare I bambini ci sono là dentro Che si vergognino Posso dire una cosa? Non lo diranno, non lo diranno Non lo diranno Sono venduti Io lo dirò, perché sono qua Non sono nello studio orai, capisci? Vabbè, vogliamo vedere se lo dici Sono un cittadino anche io Vabbè, venduti lo vai a dire all'operatore Reiche è lassù Sono con te, sono con te Sono con te Sono con te Allora, abbiamo Abbiamo una famiglia Io sono dal 25 di settembre qua Non sono venuto a riprendere gli scontri, capisci? A me non me ne frega un cazzo Verità Allora Siamo qua C'è chi dice di portarmi via Andiamo le viaggi Perché fanno male Via 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 Noi stiamo difendendo le nostre libertà Vaccinati, non vaccinati La Costituzione italiana è ancora in vigore Non l'hanno destituita Venite a darci forza Venite a Trieste Vi aspettavate una reazione di questo genere? Visto che la manifestazione era pacifica I manifestanti si stavano anche sedendo per terra No, non ce lo aspettavamo Eravamo tutti disarmati Tutti seduti e ci hanno attaccati Dopo dicono che siamo noi i fascisti Questo è fascismo, cazzo Questo è fascismo Ah, ah 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 Ouh, non, non bello Oh non, non, non. No, non, non. No, non, 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 non. Non ho passato via di oggi. Grazie! Grazie!